Bella a tutti ragazzi Oggi c'è Mappa glitch Cattivissima, bruttissima Glicciatissima, cioè tu entri in questa Mappa, ti da i peggio Balletg, guardate Aspetta, che Cioè guardate, pochi Questo 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 Cioè guardate, cioè, è un po' buggato a parte Cioè Mi da un casino di cose, questo che non ce l'ho mai Avuto Cioè ragazzi Cioè Cioè No, non trovo più il balletto Dell'Iconic A parte che è un po' buggata Però questa mappa Cioè vi da Praticamente quasi tutti i balli di Fortnite Cioè questo Questo Simo Aspetta, termino un attimo Però raga, se voi tornate al centro I balletti non vi li da Non so perché Cioè Ci sono rimasto malissimo Speravo che ci li dasse Sarebbe solo più figo Aspetta Simo termina Così ho il belletto Cioè raga Raga Cioè per questo Per questa mappa Voglio un bel like E un'iscrizione al canale Quindi questo video è tutto Ciao Ciao